non credo vi sia bisogno di veramente di presentare un signor timo tiverdo direttore del museo dell'opera del duomo grande storico dell'arte io direi quindi di mandare subito le sue immagini sulle quali lui ci metterà la sua voce e quindi darei via alla presentazione ecco timothy grazie direttore un benvenuto a quanti ci sono a seguirci se possiamo aprire la prima immagine vorrei che vedeste con chiarezza la bella madonna annunziata di antonello da messina ecco chi mi sta gestendo le immagini deve aprire la prima con la titolazione io in questo momento c'è in visione la prima immagine a sì sì ok bene bene io vedo ancora l'intera sfilata delle immagini se voi mi dite che c'era prima benissimo questa è un'immagine tra decine di migliaia della madonna con cui si poteva introdurre questo argomento vastissimo che stasera potrò appena sfiorare ma è un'immagine questo non grande dipinto conservato al museo di palazzo batteris a palermo sufficientemente atipica che permette di mettere in evidenza subito alcuni aspetti dell'argomento l'immagine è atipica perché pur trattandosi del racconto della annunciazione l'artista non ci fa vedere l'arcangelo gabriele quindi pensa una nuova tipologia per comunicare il contenuto religioso ma anche umano psicologico di questo momento narrato dal nuovo testamento e direi che la chiave fondamentale è quella della intimità Antonello da Messina ci fa vedere una vergine che stava leggendo il leggio il libro aperto avanti a lei sono perfettamente evidenti che sembra essersi interrotta nella lettura l'interruzione forse a causa di un'intrusione forse l'angelo Maria alza la mano destra in un gioco di scorci veramente rivoluzionario per il momento siamo intorno alle 460 tra 60 e 70 mentre con la mano sinistra scusate alla maniera delle donne antiche delle donne mediterranee davanti all'invasione del suo spazio istitivamente si copre chiude il mantello quindi Antonello comunica sia quella sorpresa descritta nel nuovo testamento della Madonna davanti all'annuncio dell'angelo sia il suo pudore nel Vangelo dice ma quello che tu proponi Gabriele non è possibile perché non conosco uomo sono vergine tutto questo è comunicato con semplicità con eloquenza però questi gesti accompagnano il vero elemento comunicatore che è il volto straordinario che è il volto tipicamente siciliano dagli zigomi alti che è il volto essenzialmente interiore qualche storico ha detto Maria guarda verso l'angelo che noi non vediamo ma non mi sembra francamente perché il suo sguardo non fuoriesce dalla dalla sua mente è uno sguardo rivolto al suo proprio interno e quindi Antonello ci invita a chiederci ma Maria ha veramente sentito parole pronunciate da un angelo fisiologicamente percettibile o ha solo compreso il senso delle parole nel libro che ha aperto davanti a lei qui sembra più una donna che appunto entra in se stessa per verificare la possibile il possibile senso delle parole che ha letto che secondo la tradizione sono quelle del profeta Isaia ecce virgo concepiet ecco una vergine concepirà un bambino lo chiamerà eh Emanuele eh quindi Antonello sembra veramente eh condurci all'interno dei processi mentali eh di questa donna eh e eh farci partecipi di un percorso eh unicamente spirituale in cui le parole lette eh diventano carne eh come potenziale di vita eh nella eh giovane eh che lui dipinge uno dei modi in cui l'incarnazione di Cristo eh viene effettivamente eh descritto nel quarto Vangelo e come il verbo eh che si fece carne quindi Maria che legge e a un certo punto sotto la guida dello spirito le parole sulla pagina diventano realtà anche fisica eh nella sua vita eh è un'immagine eh questa ricca di eh suggerimenti sia eh mariologici per chi studia la teologia di Maria sia eh psicologici eh perché è veramente una straordinaria lettura di un processo interiore fondamentale poi per la vita successiva di questa donna eh eh e in tutto questo eh mi sembra che eh l'immagine eh ci permette di dire che l'iconografia mariana nei secoli ha dato ha dato spazio a questo tipo di eh analisi. Ah aggiungo che la squisita femminilità di questa figura eh il gesto della mano sinistra che richiude eh il manto eh è un'allusione precisamente a questo senso del proprio corpo che Maria aveva avanti per favore prossima immagine eh ecco ciò che Antonello ci fa vedere eh effettivamente eh effettivamente eh eh ci conduce a un retroterra eh molto più antico eh non il quattrocento in Sicilia ma il mondo pre cristiano eh tutto e in modo particolare il mondo mediterraneo eh pre cristiano eh qui vi faccio vedere un'opera eh che sta fisicamente molto vicino all'accademia al museo archeologico eh la statua grandezza naturale etrusca del quinto secolo avanti Cristo di una donna non è ancora Maria evidentemente però è la maestosa figura di una donna eh nella mistica comune alle civiltà antiche eh che celebravano nella donna il mistero della vita quindi una donna che come la terra è feconda eh che produce la vita eh la donna con il frutto del suo grembo eh che diventa eh legame visibile di noi eh esseri umani eh con i grandi processi della natura eh ecco eh questo senso eh cosmico della femminilità all'interno del mistero della vita eh all'interno della eh dea chiamata gran madre eh molto spesso che però si trova anche nelle civiltà germaniche eh eh e altre eh pre cristiane eh l'iconografia mariana nella civiltà cristiana ha conservato ha sviluppato ha precisato numerosi aspetti di questo cultus antico che eh nei secoli prima dell'invasione eh d'orica eh di Grecia eh gli storici ci dicono era eh la forma principale della religiosità quindi prima del culto di Zeus e degli altri divinità eh maschili eh il culto della grand madre Maria eh è sempre un anello di collegamento con questa religiosità antica e cosmica che collega l'essere umano con i misteri i grandi processi eh della terra della vita eh quindi anche del futuro avanti per favore eh cerco di fare eh sintesi eh subito di queste queste idee eh un po' eh vaghe eh un po' eh sparpagliate con un'immagine eh fiorentina eh del 1310 eh la grande madonna col bambino e angeli e santi eh ora agli uffizi ma eh dipinta per la chiesa di ogni santi da Giotto uno dei capolavori della maturità di Giotto eh in cui eh certamente l'aspetto della gran madre eh l'aspetto di una divinità maestosa eh Giotto la colloca in eh un trono eh eh oggi vale eh con una nuova sua corte eh attorno eh è indubbiamente una figura regale eh il tipo di immagine che eh gli storici hanno chiamato maestà eh perché il messaggio eh immediato è quello della maestosa presenza di questa donna eh eh è una vera donna eh perché laddove nello stesso periodo eh Duccio eh Fiorentino eh eh scusate Cimabue Fiorentino e Duccio di Boninsegna Senesi creavano ancora eh figure sagomate eh nella stessa prima sala degli uffizi eh ci sono le tre maestà eh che sempre in qualsiasi corso di storia dell'arte si mettono a confronto eh Cimabue e Duccio con figure eh spirituali ma in cui non si avverte una presenza fisica mentre in Giotto eh l'unico di questi tre ad aver risposto con energia già molto prima agli impulsi della nuova spiritualità francescana focalizzata sulla corporeità di Cristo ecco se Cristo è vero uomo allora deve nascere da una vera donna e qui la modellatura delle cosce eh la modellatura eh dei seni eh la eh il collo taurino eh tutto questo ci parla di eh una potente donna eh la cui eh femminilità può sostenere la vita del neonato verbo di Dio avanti per favore avanti e se noi poi guardiamo eh il particolare del volto di Maria eh troviamo che eh anche qui come più tardi in Antonello come nell'arte fiorentina almeno quasi sempre l'enfasi è anche sulla intelligenza di Maria eh nell'annunciazione di Antonello ho sottolineato eh un'interiorità responsiva un'intelligenza che aveva capito e che rispondeva eh Giotto molto prima in questa potente figura della eh maestosa Regina Ceri ci fa vedere una donna che ingaggia la nostra attenzione eh che con un lieve sorriso eh ci guardano negli occhi quasi per dire ma avete capito il senso eh del mio ruolo in queste cose eh io sono eh quella quella via con la porta attraverso eh la quale eh la spirituale parola di Dio è entrata fisicamente nel mondo eh uno dei temi eh dell'iconografia mariana sarà precisamente la intelligenza di questa donna e Giotto in quest'opera celebre eh ce lo fa vedere il modo mirabile avanti per favore un secolo e quindici anni dopo Giotto altro fiorentista eh altro artista fiorentino masaccio eh sottolinea lo stesso aspetto della vergine in questo volto misticamente assorto eh di Maria in un dipinto che ora vi farò vedere nella sua interezza lui enfatizza un'intelligenza capace di scandagliare eh le profondità del mistero qui Maria non guarda eh a noi o negli nostri occhi sembra guardare nella profondità di Dio ed è in questo modo che eh i teologi cristiani eh l'hanno immaginata eh una donna preparata già nell'immacolata concezione a questo scopo capace di eh fissare la mente e la volontà su Dio e concepirlo e portarlo alla luce eh voi sapete forse che questo splendido volto di una madonna bionda perché nell'arte fiorentina le più belle madonne sono sempre bionde eh questo volto di Maria avanti per favore eh e il particolare centrale di un dipinto di cui qui vi faccio vedere eh una fetta più ampia e la cosiddetta Sant'Anna metterza eh dialetto per Sant'Anna come terza figura ed è una tipologia iconografica tipicamente toscana in cui la Madonna col bambino sono raffigurati eh insieme alla madre di Maria Sant'Anna e qui come eh sapete bene eh gli storici eh danno un po' per scontato che mentre la Madonna e il bambino sono eh eseguiti da eh Masaccio la figura di Sant'Anna eh è opera del collaboratore eh di Masaccio Masolino di Panicale eh in effetti la modellatura della figura eh è meno robusta eh interessante però che eh Masolino e Masaccio hanno voluto in questo caso dare alla madre di Maria quella presenza maestosa che la tradizione prima dava solo a Maria eh Sant'Anna era molto riverita a Firenze per l'episodio del duca di Atene eh e qui c'era la volontà di includere Sant'Anna che con la destra eh pone una mano protettiva sulla spalla della figlia mentre con la sinistra in uno scorcio estremamente ardito siamo negli anni 1420 eh fa scendere eh una mano protettiva eh verso il bambino eh ciò che è straordinario eh è che mentre Maria guarda oltre eh il contesto immediato eh non pensa nella madre e si direbbe neanche la figlia al figlio eh Maria guarda nell'infinito eh la sua mano eh anzi le due mani modellano il corpicciolo del bambino eh Masaccio ci fa vedere le mani di una massaia che eh lavora la pasta per il pane eh siccome il dipinto era quasi certamente concepito per stare sopra l'altare forse dalla chiesa di Sant'Ambrogio chiesa conventuale di eh monache benedettine eh le monache dovevano vedere sopra il prete eh che alzava il pane e il calesce del vino eh in cui credevano realmente presente il corpo e il sangue di Cristo dovevano vedere Maria che che plasmava il corpo di Cristo o nel linguaggio teologico che confezionava il corpo di Cristo. La teologia medievale eh dice che il prete eh confecit eh confeziona eh il corpo di Cristo nell'eucaristia e quindi in qualche modo è una Maria che diventa sacerdote in questo commento di monache benedettine eh è una Maria eh la cui accettazione eh del eh compito di portare alla luce Cristo eh assorge alla dignità consacratoria. Lei eh mette davanti a noi eh il corpo e il sangue di Cristo. Avanti per favore. Eh e qui eh vedete eh il dipinto intero agli ufizi conosce che bene eh l'alto trono di Sant'Anna. Maria seduta eh proprio sullo sgabello del trono seduta tra le gambe della madre e quindi Maria che è uscita dal corpo di sua madre Sant'Anna e tenuto davanti a Maria Gesù suo figlio uscito dal suo corpo e una geneologia eh femminile eh della discendenza di Cristo. Evangelici parlano eh della sua discendenza maschile ma qui forse per le monache benedettine eh Masaccio e Masolino hanno pensato eh un'immagine di come il verbo di Dio è venuto nel mondo come vero uomo da donne, da donne. di uomini erano lì sul retrofondo certamente a dare il nome ma eh le figure operative sono le donne. Quindi eh tra le cose che sto dicendo Maria e anche in passato eh il veicolo la cifra di ogni riflessione eh sulla donna eh perché eh la donna per eccellenza la donna che diventa madre di Dio eh e via di seguito eh opera però di grande importanza. Chiamo la vostra attenzione a un particolare se le mani di Maria plasmano eh la cicciosa gamba sinistra di Gesù e la sua mano sinistra eh sul polso sinistro della madre a guidare della madre a guidare la mano. Quindi la teologia è intatta eh non è Maria sponte sua ma guidata dal figlio Maria alla grazia di eh fare ciò che rende possibile l'ingresso del verbo di Dio nel mondo. Avanti per favore. Eh altro aspetto eh molto importante eh e eh in Toscana quasi universale eh della iconografia eh mariana. Eh qui stiamo guardando un dipinto molto arcaico un'opera d'intorno a 1235 attribuita a un artista di nome eh Enrico di Tedice Pisano, opera conservata alla Galleria Nazionale del Bargello a Firenze eh che propone eh una delle tipologie mariane eh più antiche eh amata soprattutto nel mondo eh bizantino. Maria che indica suo figlio come via eh i bizantini chiamavano questo tipo di madonna in cui eh la Vergine ci guarda ma eh con la mano destra indica il figlio eh la odigiatra eh dalla parola greca pedra strada odos eh quindi Maria ci indica la strada che è lui che disse effettivamente io sono la via la verità e la vita eh lui è sempre il verbo incarnato vedete che eh nella sua mano di Gesù a sinistra c'è un piccolo rotolo perché il verbo che si è incarnato è il figlio di Dio e quindi ha tanti pensieri ed è abbastanza brutto come bambino però la fronte corrugata è un modo di alludere alla onniscienza però la cosa in assoluto più eh innovativo in questo dipinto eh è la colonna di eh quattro piccole immagini eh alla vostra destra eh verso le quali immagini quella mano di Maria eh indicando suo figlio inevitabilmente ci porta eh sono immagini della passione di Cristo in alto il suo arresto il bacio di Giuda poi Gesù flagellato poi Gesù che porta la croce via eh Calvario eh e infine che viene deposto dalla croce eh però l'immagine principale è la Madonna col bambino la Madonna che indica suo figlio come la via verso la salvezza eh e che quindi qui eh indica eh inscindibilmente collegato a a quella salvezza la passione del suo figlio eh Maria è eh una delle grandi annunciatrici eh della passione eh anche se nel Vangelo lei non parla mai della passione eh quando viene profetizzato da Simeone che bambino Gesù eh incontrerà eh ostilità tra il suo popolo Simeone dice a Maria e anche a te una spada eh ti 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 ferirà il cuore eh però qui Maria diventa la persona che indicando Cristo indica anche avanti per favore indica anche queste scene eh della passione eh e quindi eh bisogna a questo punto dire che chiaramente ciò che molti eh osservatori moderni vedono solo come donne con bambini la Madonna col bambino ma c'è sempre molto di più c'è tutto un apparato eh biblico eh teologico eh devozionare eh da cui queste figure eh non si liberano eh e quindi per capire ciò che fa l'artista in questo caso questo abbinamento eh quasi inaudito di scene della passione con il bambino Gesù in braccio alla mamma eh bisogna sapere eh queste cose. Avanti eh un'opera eh più vicino a noi eh un piccolo dittico al Museo Horn a Firenze attribuito a Simone Martini attribuzione attendibile eh secondo me eh fa vedere da una parte Maria col bambino eh in collo eh immagine tenerissima e dall'altra parte il bambino cresciuto Gesù trentatreenne eh che eh eh starito nel sepolcro e l'immagine eh l'immagine eh della pietà il mago pietatis eh l'uomo dei dolori. Eh ciò che è interessante eh è che eh l'artista Simone Martini probabilmente eh fa vedere a sinistra il bambino che accarezza eh amorosamente la madre eh accarezza il mento, il bambino guarda negli occhi della mamma. Eh però la mamma Maria non guarda negli occhi del bambino ma piuttosto guarda oltre il bambino che tiene in braccio verso l'uomo futuro, verso l'uomo che morirà. Eh e quindi è una Maria che anche quando nei momenti di tenerezza teneva il bambino tra le braccia pensava a a questo terribile ma salvifico destino eh futuro eh affascinante il modo in cui eh l'artista ha dato sia al bambino a sinistra e eh alla sottoveste della Madonna eh lo stesso rosso del sangue che eh ci ci fa vedere nelle ferite eh nelle mani nel postato di di Gesù nell'immagine a destra. Sono eh esempi di una eh ricca narrativa umana eh e teologica che qui tra l'altro riflette sul fatto che in un passato così lontano eh le le mamme avevano sempre presente il pensiero eh il terrore eh della morte del bambino. Il tasso di mortalità infantile eh altissimo e quindi ogni madre guardando il bambino pensava a ciò che eh poteva che avrebbe dovuto un giorno patire. In ogni caso eh opera eh bellissima eh che ci porta verso ancora un altro aspetto. Eh questo dittico verosimilmente serviva a qualche colto e ricco prelato come eh altare portatile all'adaltare portatile quindi viaggio magari da Siena a Roma fermandosi per la notte chissà dove la mattina dopo diceva messa davanti a quest'immagine eh periodo del trecento in cui eh vogliono sempre l'immagine insieme alla messa. Eh e quindi eh le due figure di Cristo il bambino tenero e l'uomo eh che ha sofferto eh si riferiscono all'eucaristia e eh il ruolo di Maria in questo rito principale eh della chiesa cattolica le pane e vino che diventano corpo e sangue di Cristo la messa eh l'eucaristia eh è un altro aspetto del nostro discorso. Avanti per favore eh qui in un dipinto eh oggi a Londra eh di un artista fiammingo Robert Campin degli anni venti o forse primi trenta del quattrocento eh vedete eh in un linguaggio molto più realistico che la cueva pittura italiana eh Maria all'interno di una abitazione eh borghese eh molto confortevole eh vediamo anche la cittadina fiamminga attraverso la finestra Maria che eh dà il latte al bambino eh il bambino sembra contento di questo ci fa un gesto eh quasi ci fa cinque insomma eh bambino che eh è contento di di poppare eh ma sono come sempre in queste opere fiamminghi particolari eh che introducono nel significato profondo eh oltre al realismo eh degli interni della casa del mobilio voi vedete che sulla panca dietro a Maria eh l'artista fa vedere un grande libro aperto eh e quindi l'allusione è sempre al verbo di Dio che si fa carne e qui eh beh la carne è un bambino un po' rachitico ma la mamma eh è abbondante eh nella sua carne eh e poi eh alla vostra destra di Maria sul mobile che allude a un altare eh vedete spero bene un calice dorato eh un calice come si usa per la messa eh e quindi la scena viene collegata non solo al mistero teologico della incarnazione il verbo che si fa carne ma al eh mistero quotidiano della liturgia della messa eh in cui pane e vino eh diventano lo stesso corpo di Gesù eh che l'artista fa vedere qui eh e eh in cui ci dice eh che come il pane e il vino provengono dalla terra eh dal frumento e eh dall'uva eh così il latte che Gesù eh succhiava dal petto della madre eh veniva da una donna umana che si era nutrita anche lei dai frutti della terra quindi ci sta suggerendo una mistica circolarità in cui colui che da adulto ci darà il suo corpo volendo sulla croce per il nostro alimento spirituale da bambino appena entrato nel mondo si lasciò alimentare dai frutti della stessa terra da lui eh creato lui il verbo attraverso il quale tutte le cose sono state create ecco queste cose eh suggeriscono eh la voglio quasi dire infinita eh ricchezza del tema vi faccio vedere altre eh due opere eh e poi eh lascio aperto eh il microfono per le domande avanti per favore eh questo è un fotomontaggio di un celebre dipinto del Beato Angelico eh un'annunciazione oggi al Museo eh del Prado a Madrid eh e vi faccio vedere il fotomontaggio eh perché stiamo ancora parlando di Maria e dell'Eucaristia eh eh perché eh il dipinto oggi in un museo semplicemente appeso alla parete eh fu eseguito sappiamo dai documenti per un altare eh per uno degli altari nella chiesa di San Domenico a Fiesole e quindi qui eh l'operazione è stata semplice di ricollocare il dipinto con le scene della sua predella sopra un altare eh per ricordare con forza che l'immagine in cui eh immaginiamo eh il concepimento di Cristo quando Maria dice di sì a Angelo allora il verbo si fa carne eh ecco quell'immagine eh doveva essere visto e la porto all'Eucaristia quindi eh gli abbinamenti eh concettuali eh e mistici di cui vi sto parlando erano eh molto semplici era un'epoca di fede quando le opere erano ancora nel loro contesto naturale eh qui però volevo far vedere eh un altro particolare eh molto eh inusuale se non a Firenze avanti per favore eh ed è il particolare eh alla vostra sinistra eh Maria a destra che occupa tre quarti eh della eh eh campo visivo eh abita questo padiglione lussuoso eh dove il nostro occhio penetra addirittura nella camera da letto eh eccetera eccetera Maria eh che riceve l'annuncio in un mondo separato però fuori del suo splendido padiglione c'è un giardino lussureggiante eh vedete i fiori i frutti su questi alberi in cui eh ci sono eh dei personaggi eh con un abito rosso c'è l'arcangelo eh Gabriele eh non per eh Michele scusate Michele non per annunciare ma per espellere quei due poveracci vestiti di stracci dal giardino loro evidentemente sono Adama ed Eva eh ed è il momento in cui vengono espolsi dal paradiso terrestre perché hanno disobbedito a Dio hanno peccato eh e quindi eh Dio organizza per loro un po' di abiti per coprire eh la vergognosa nudità e vengono espolsi quindi a sinistra una donna la prima figura che vedete Eva che va eh fuori eh che non entra nella storia eh mentre a destra l'altra donna Maria che è il punto culminante eh del progresso della nostra lettura da sinistra a destra e il senso è molto evidente eh è quello sottolineato da eh eh almeno eh mille sette o trecento anni dalla teologia cristiana eh che eh se noi esseri umani abbiamo perso l'amicizia di Dio eh grazie soprattutto a una donna perché fu Eva a soccombere alla tentazione eh di Satana e poi convincere Adamo che francamente non se legge la Bibbia non non era molto resistente eh però eh il tutto parte da Eva eh quando Dio decide di riavvicinarsi all'uomo eh va a trovare eh un'altra donna Maria eh una donna preparata dal mistero dell'immacolata concezione per non peccare per non dire di no per accettare eh però eh Maria come nuova Eva Maria come colei in cui eh tutta la tragedia del peccato originale eh della natura umana eh indebolita, ferita, eh vulnerata viene come eh rovesciata. Eh l'intera Bibbia eh si può leggere anche attraverso la figura di Maria eh sin dai progenitori fino a colui che è il salvatore del mondo, Gesù, figlio di Maria. e quindi eh in poche immagini eh che spero di aver spiegato con relativa chiarezza, volevo darvi il senso della eh panoramicità eh di questo personaggio eh lo sguardo veramente eh complessivo con cui eh la storia, la teologia, l'arte cristiana eh ha guardato eh a Maria. Eh se Cristo è in assoluto la eh il personaggio principale eh della arte cristiana, Maria è appena un mezzo passo dietro al figlio eh e laddove col figlio gli artisti sempre sono stati eh molto circoscritti, molto limitati dalla stessa teologia e quindi dovevano rispettare eh di regole eh di regole teologiche eh Maria si è sempre proposta eh come un argomento eh quasi libero eh e quindi un tema iconografico molto più aperto eh alla inventiva, alla poetica eh degli artisti. Io vi ringrazio eh e se avete domande provo a rispondere. Eh ok in tutte queste immagini che abbiamo visto volevo chiederle eh inerente a ciò che veste la figura di Maria i i vari significati simbolici che sono legati anche alla diversità che c'è tra i colori comunque perché non so come ha detto ora appunto c'è una grande libera espressione su personaggio da Maria. Volevo chiederle questo. Sì eh Maria si presta eh più facilmente a a a tipo di intreccio di eh simbolismi che ho voluto illustrare perché è veramente eh la forma stessa eh dell'icografia mariana. Lei si presta bene eh perché eh i Vangeli non non insistono eh nella fede ti obbliga a a a credere più che alcune cose teologiche di Maria. Quindi gli artisti eh sono più liberi. Certo eh in passato eh gli artisti potevano contare eh su ciò che eh oggi in genere eh non c'è più neanche negli storici dell'arte e quindi una conoscenza sia dei testi scritturistici sia dei simbolismi sia anche la eh familiarità eh l'abitudine di mettere insieme una gamma di significati eh simbolici di diverso tipo per arrivare eh a a un unico eh messaggio eh quindi eh in questo senso eh dico che Maria eh si è prestata a letture eh poetiche eh più varie eh che non la stessa figura di Cristo. Questo risponde alla tua domanda? Sì sì la ringrazio. Prego. Buonasera eh io avrei una domanda. Allora ehm stavo cercando di fare un ragionamento e ma è possibile che queste rappresentazioni della madonna appunto con il bambino eh è possibile come se queste rappresentazioni rispecchiassero la maternità come era vista un tempo? Perché secondo me la percezione della maternità è cambiata nei tempi e quindi mi chiedevo se fosse una rappresentazione più austera della maternità come era vista allora? Sì eh evidentemente eh soprattutto dal medioevo in poi eh e cioè eh nel contesto di una società eh borghese eh i committenti eh muovevano dagli artisti anche madonne che sembravano eh belle giovani mamme eh bambini che sembravano i loro bambini eh questo umano questo è naturale eh 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 non c'è nulla di eh eh sbagliato eh il tuo punto però era più complesso eh eh e la risposta deve essere complessa eh da una parte certo eh molte madonne forse tutte in qualche misura eh in qualche misura eh rappresentano il concetto della maternità come anche dell'infanzia del periodo eh in cui è stata eseguita l'opera. Però eh quel concetto di maternità eh del trecento del quattrocento eh fino al seicento praticamente eh è in sé fortemente eh colorato eh da le cose che vi sto facendo vedere. Quindi eh le persone non avevano eh altre immagini di donne con bambini se non immagini della madonna col bambino. Eh quindi eh se l'artista eh voleva rafforzare eh nel comitente, nell'osservatore eh il senso della bellezza della maternità eh lo faceva eh verso una persona la cui idea della maternità nasceva anche da queste cose, capito? Eh e quindi ehm eh l'arte eh si libererà eh da questa eh forte dipendenza teologica solo eh nel cinque e soprattutto nel sei e poi settecento e cioè siamo già in epoca moderna. Eh però eh domanda eh molto eh eh azzeccata perché da una parte sì si conferma la bellezza della maternità però quella bellezza era percepita eh in chiave mariana e allora eh diventa un po' eh un circolo speriamo virtuoso. sì grazie. Tra l'altro volevo dire che una madonna col bambino che apprezzo molto è quella eh dipinta da Filippo Lippi e e lì ho trovato una certa tenerezza diverso rispetto alle altre madonna. Sì sì eh mi 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 sa dire dov'è perché si vengono fatte tante. Non vorrei sbagliare però credo che si trovi a Firenze presso gli uffici. Ok ok. Sì eh lui eh è uno eh di questi artisti eh che lavorano anche per la eh ricca e colta borghesia fiorentina eh che eh hanno il compito precisamente di umanizzare, di rendere eh eh abbordabili sul piano emotivo queste cose e lo fa eh meravigliosamente. Poi eh lui è uno dei pochi artisti eh del suo tempo eh capace anche di scherzare con questi temi così eh autosonanti. Eh c'è una madonna col bambino eh con un gruppo di altri bambini intorno a loro eh la cosiddetta madonna eh ora mi sfugge il nome, comunque è a Prato, è a Prato eh dove eh il gruppo di bambini intorno a Maria col Gesù eh sono eh dei piccoli eh eh scunizi fiorentini insomma stanno facendo eh eh gestacci espressioni che ti fanno ridere perché si comportano come veri bambini in qualsiasi periodo della storia. Quindi non c'è il tentativo di farli diventare tutti i piccoli santi eh Maria invece eh molto solenne. Il bambino Gesù eh che sembra avere appena eh popato ed è mezzo addormentato. È proprio quasi una una eh deliziosa presa in giro eh di una eh solennità ufficiale tipica in queste opere. Quindi eh eh gli artisti a volte eh ci sorprendono con letture eh molto individuali. grazie. Io avrei una domanda se se posso. Sì. Allora ehm premetto che sono dovuto entrare un po' in ritardo per problemi di connessione quindi non so se lo ha già spiegato ehm però volevo sapere appunto no ehm prima se non mi sbaglio del concilio di Trento eh evangelio apocrifi in teoria erano piuttosto comunque conosciuti no? Anche magari un po' per come non so tipo un po' penso leggende anche un po' come mitologie e volevo sapere quanto eh sono diciamo ehm a livello simbolico no iconografico quanto sono presenti nella eh appunto nella nella storia dell'arte insomma prima del del concilio ehm buona domanda eh infatti stasera ho fatto vedere solo opere del eh due tre quattrocento e quindi siamo ben prima eh dei rigorismi eh tridentini eh che avevano eh l'obiettivo di eliminare eh dalla eh iconografia nonché da altri ambiti della vita cristiana eh ciò che eh era in pratica leggendario eh il medioevo eh distingueva normalmente con grande attenzione eh tra eh le scene autenticamente evangeliche eh le scene con elementi eh apocrifi eh e eh faccio faccio eh l'esempio eh nella cappella Baroncelli eh affrescato da Tadio Gaddi in Santa Croce a Firenze eh le scene principali della vita di Maria che sono tutti eventi descritti nel Nuovo Testamento sono sulla parete principale eh la parete che tu vedi quando guardi la messa mentre le deliziose storie del affidanzamento eh e dello sposalizio eh della Vergine eh che attingono a mani piene eh da Evangeli apocrifi sono relegati a una parete laterale eh e quindi c'è la precisa intenzione di privilegiare le storie eh 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 evangeliche eh ora in Italia eh non c'è mai stata quella eh passione eh per le storielle eh apocrife come nei paesi nordici eh soprattutto eh soprattutto nella eh iconografia intorno alla natività di Cristo dove ne dipinti i nordici anche in quelli italiani ma è meno eh frequenti e si trovano le le due baglie che che lavano il bambino eccetera questi sono elementi raccontati negli apocrifi per riempire un po' eh la narrativa l'evangelo da pochi particolari la gente voleva saperne di più eh e in Europa del nord c'era anche il fatto che eh l'iconografia attingeva al teatro eh il teatro sacro esistono ancora interi cicli di eh sacre rappresentazioni con i testi eh eh attingevano appunto eh cioè l'iconografia eh artistica attingeva a questo mondo eh però eh distinguere distinguevano è sbagliato immaginario medioevo eh ignorante che che non sapeva distinguere e in Italia la preferenza normalmente è data ma con con enfasi eh alle storie evangeliche va bene grazie mille prego eh io professore volevo chiederle ehm una domanda riguardo all'iconografia sulla madonna con il seno scoperto dove ha quando allaccia il bambino eh più in che contesto si sviluppa e per quale motivo c'è questo cambiamento di una madonna che è comunque una figura legata probabilmente a questo con il seno scoperto che potrebbe anche essere motivo di censura Sì è un tema visivo Maria Maria Lachtanz Maria che eh dà il seno al bambino eh che eh si sviluppa soprattutto tra la fine del trecento eh e il cinquecento eh e ehm si sviluppa eh non principalmente in Toscana o nell'area romana eh come tema iconografico si trova eh più spesso in Alta Italia eh dove è legato eh certamente all'arte eh l'arte eh ultramontana dove il tema si trova con una certa frequenza spesso eh la commissione per un'immagine eh di Maria che ha latte il bambino è collegato a eh un un luogo un santuario eh dove si conserva eh qualche goccia del latte della Madonna eh c'è una pagina in San Bernardino da Siena grande predicatore francescano del primo quattrocento dove lui parlando in pubblico la gente dice ma nel vostro territorio lui girava a predicare in tutte le zone d'Italia eh nel vostro territorio ho trovato tanti di quei santuari con reliquie del latte della Madonna eh cosa pensate che fosse una vacca? Eh quindi lui prende in giro eh questo eh desiderio delle persone di immaginare di avere eh lo stesso latte con cui eh Maria aveva nutrito Gesù eh ed è eh una pagina interessante perché aiuta a capire che ancora eh le persone eh pensanti eh del tardo medioevo certamente eh erano eh erano molto scettici su alcune reliquie eh alcune leggende eh e uno degli obiettivi eh del eh alto clero nel quattrocento certamente era di eh incominciare a liberare il popolino eh da queste cose tra eh il sentimentale e lo superstizioso eh l'essenza del cristianesimo è tutt'altro che eh qualche eh qualche goccia di di latte eh altra l'eriquia eh assurda eh si dice che ci sono tre chiese a Roma che conservano eh il santo eh il santo prepuzio e quindi quel filamento di di carne prepuzio eh levato a Gesù eh nella circoncisione eh ma tre chiese tre reliquie cosa cosa vuol dire eh e quindi eh eh i dipinti sono anche eh rari piuttosto che frequenti poi eh ci sono anche migliaia ma non è un tema così eh sottolineato come numerose altre temi eh eh perché eh è legato molto spesso eh alla località eh di una leggenda di un culto eh e via di seguito eh poi eh artisti sotto la guida di teologi si si suppone eh faranno cose straordinarie ad esempio a a Greccio eh che è la cittadina dell'Umbria dove Francesco si era fermato strada facendo per Assisi da Roma ad Assisi e dovete passare lì il Natale inventò lì a Greccio eh il eh il presepio eh eh nella grotta che secondo la tradizione più antica è il luogo dove Francesco eh presentò eh il presepio al popolino di Greccio eh proprio proprio sopra l'altare sopra la mensa dell'altare c'è un affresco che fa vedere eh Maria eh che allatta il bambino eh con Francesco inginocchiato davanti a loro è un affresco del primo quattrocento eh stile estremamente rustico eh ma il bambino eh è avvolto in fasce e sta in piedi in un sarcofago quindi sopra l'altare il sarcofago in cui in futuro sarebbe morto eh e quindi il corpo e il sangue dell'Eucaristia eh ma a quel corpo che morirà in croce e che eh verrà eh reso presente nell'Eucaristia Maria dà il suo latte eh quindi l'immagine eh sfonda eh completamente eh ogni normale eh concezione eh di tempo eh di tempo eh di rio di seguito unendo in un solo mistero eh sia i i processi eh della terra che producono il pane e il vino eh sia il fatto che come dice Sant'Agostino Maria alimentò Gesù con quel latte che il suo corpo poteva fare perché lei stessa si alimentava eh dei frutti della terra che erano stati creati dal suo figlio all'inizio della storia eh quindi non non si finisce più insomma eh però eh è un'immagine eh che eh eh in Italia eh soprattutto eh spesso assume caratteristiche di alto misticismo grazie professore prego ho 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 Jingle